ciao ragazzi io sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia al videomaking oggi proseguiamo la nostra rubrica relativa alle storie dei grandi fotografi oggi è il turno di William Eggleston prima di partire se non siete ancora iscritti al canale vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qual volta pubblico un nuovo video e se volete sostenere il canale vi invito a visitare la mia pagina su tp.com trovate il link in descrizione William Eggleston nasce a Memphis il 27 luglio 1939 e sarà tra i primi fotografi a legittimare l'uso del colore nella fotografia d'arte e infatti è considerato uno dei padri della fotografia artistica a colori durante i suoi studi universitari nel 1958 acquista la sua prima leica e inizia ad appassionarsi alla fotografia i libri di Walker Evans Henry Cartier-Bresson e Robert Frank sono dei veri e propri modelli dai quali attingere padre della fotografia artistica colori tuttavia le sue prime opere sono in bianco e nero ma ben presto abbandona il monocromatico per sperimentare con il colore fino a quel momento considerata una caratteristica appannaggio del lavoro commerciale Eggleston si serve del dye transfer una tecnica molto costosa brevettata dalla Kodak negli anni 40 con questa tecnica i negativi in partenza in bianco e nero vengono stampati in tricromia attraverso appositi filtri che sviluppano un'ampia gamma di rossi blu e gialli questa tecnica permetteva di ottenere una straordinaria intensità di colori e nel 1976 con il sostegno di John Zarkovsky un influente storico della fotografia critico e curatore il lavoro di William Eggleston viene esibito al Museum of Modern Art di New York il MoMA la mostra tuttavia viene demolita dai critici che lo accusano addirittura di volgarità per il suo uso pacchiano a loro giudizio dei colori lo stesso New York Times definisce la mostra come la peggiore di quell'anno Ansel Adams scrive addirittura una lettera di protesta al MoMA di New York l'attenzione di Eggleston per il banale è abbiurata dalla maggior parte dei fotografi fedeli invece al momento decisivo decenni più tardi per fortuna la reputazione della mostra è stata ampiamente rivista oggi infatti è considerata come una svolta nella storia della fotografia lo sguardo di Eggleston è neutrale crea infatti la sua arte partendo da soggetti banali un triciclo un frigorifero lui fotografa democraticamente tutto il mondo che è intorno a lui con lui tutto diventa importante alla stessa maniera e soprattutto non si lascia coinvolgere rimane infatti un osservatore distaccato e le immagini tra l'altro spesso e volentieri non ritraggono azioni né sono presenti dei veri e propri soggetti nelle sue foto la maggior parte delle volte la cosa interessante che ci fa vedere sotto prospettive particolari delle cose che sono sotto i nostri occhi tutti i giorni e William Eggleston avrà un grandissimo impatto non solo su fotografi ma anche su registi registi come Wim Wenders e Gus Van Sant un approccio davvero originale e per questo molto interessante quello di William Eggleston bene ragazzi il video si conclude qua spero che sia stato interessante se vi è piaciuto vi invito a lasciare come sempre un bel like a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti a me non resta altro che ringraziarvi della visione dell'iscrizione di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti